Dopo appena cinque giornate è giunta già al termine l'avventura di Roberto Boscaglia sulla panchina del Foggia. Il tecnico siciliano paga un avvio di stagione assolutamente al di sotto delle aspettative, con tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle prime cinque giornate e ben 11 gol subiti e appena tre all'attivo. Il clima era già diventato teso dopo la pesante sconfitta interna per 0-4 nell'ultima partita contro il Pescara, dove i tifosi hanno rifiutato anche un confronto con il tecnico che era uscito per spiegare le sue ragioni. Inevitabile l'epilogo di ieri sera alle ore 21 quando il tecnico e la società del patron canonico hanno deciso di terminare questo matrimonio. Si attende nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore, tra i tanti quelli di Marco Marchionni, ex tecnico rosso-nero, e Franco Dellisanti, attuale tecnico della primavera.